Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto ad un tratto, episodio speciale della nostra serie spin-off Megatrend. Oggi siamo venuti nella tana dei nostri partner di BCG, benvenuto al nostro ospite di questa puntata, al nostro Virgilio del Megatrend di questo mese, Fabio Dalpan, Managing Director e partner di BCG. Ciao Fabio. Grazie mille e benvenuti a voi. Grazie mille per l'accoglienza e per esservi prestati perché questo mese vi abbiamo chiesto di andare su un campo complicato, ampio e se posso dire anche che tipicamente o meglio non tipicamente associato al mondo della consulenza intesa come consulenza tradizionale. Noi sempre stiamo andando un po' a sfatare anche se vogliamo dei miti un po' sul vostro mondo perché parleremo oggi in realtà di un termine molto rilevante in questo periodo che è la geopolitica e anche un po' di geo-economia. Non abbiamo potuto fare a meno di chiedervi qualche dritta in questo senso. In particolare c'è un tema che vorrei affrontassimo e su cui vorrei fornire un po' di coordinate anche di definizioni a chi ci ascolta che è quello del multilateralismo. Quindi spoiler non entreremo non ci metteremo a parlare dei conflitti attualmente in essere in alcune parti del mondo. Vorrei che stessimo proprio sul framework. Cerchiamo di capire un po' all'interno di che contesto organizzativo e geo-economico questi si inseriscono. Multilateralismo. La dico come ho approcciato io questo termine. Per me mentre studiavo era la soluzione rispetto a quella che è sempre stata un po' la legge della giungla delle relazioni internazionali. Dico legge della giungla. Il più forte schiaccia gli altri. Questo era molto semplice. Io sono più forte, ho più esercito, ho più soldi e prevalgo su di te. Prevalgo su di te anche perché le relazioni sono a due. Siamo io e te e se tu sei più debole io che sia un trattato, che sia un contratto, che sia uno scontro militare avrò la possibilità di schiacciarti. Poi però ci inventiamo una dinamica diversa che è quella del multilateralismo. Quindi un tavolo che non è più un tavolo a due ma invece in cui più soggetti si siedono e cercano di darsi delle regole. Come l'ho detta? L'ho detta bene? L'hai detta in maniera perfetta direi e se ci pensi è una soluzione che l'umanità ha trovato dopo due enormi tragedie. Cominciamo il tempo prima ma fondamentalmente accelera dopo le grandi guerre mondiali dove ci rende conto appunto, come dicevi tu, che poi la legge del più forte può fare dei danni esagerati e quindi ci si imbarca verso questa strada in cui inizialmente come visione ci si riesce a immaginare che questa coordinazione internazionale riesca comunque a portare al greater good, al bene superiore dell'umanità intera. Però poi qualcosa mi viene da dire si increspa, sembrava un racconto perfetto. Creiamo una serie di istituzioni multilaterali. Da una parte naturalmente c'è l'ONU, forse quello più alto è diciamo a livello dei capi di Stato e non solo, ma poi nel campo forse che è più vicino anche alle cose di cui vi occupate. Anche voi in BCG nascono istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale, nasce la Banca Mondiale, naturalmente dobbiamo dirlo, istituzioni che non a caso hanno anche sede comunque a Washington e questo è un tema che secondo me verrà fuori poi nel corto della nostra discussione, che però appunto avrebbero, il WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che appunto rispetto ai vari campi d'azione dovrebbero garantire in qualche modo un, quello che qua devo utilizzare anche un inglesismo, quel level playing field, quindi un campo uguale da gioco equo in maniera tale che tutti possono accedere in qualche modo al gioco della competizione globale senza però essere schiacciati, è più forte se non in realtà poi con una sorta di competition on the merits, no? Andiamo in avanti e tutto dovrebbe andare, tutti dovrebbero essere empowered, tutti contenti, poi succede qualcosa. Perché questa parabola diciamo scritta come un successo o immaginata come un successo in multilateralismo, a un certo punto si ferma, rallenta fino ad andare sostanzialmente, possiamo dirlo, a sbattere contro un muro. Sì, o andare in stallo. Allora cosa succede? Succede che a un certo punto, e cercherei di semplificare, metterla sull'asse dei tempi nel 2016, quando gli Stati Uniti è stato eletto Donald Trump, alcuni di questi meccanismi vengono messi in discussione e non farei l'errore fra l'altro di associarla a un'iniziativa di una persona, perché alla fine Trump è l'espressione di un sentimento, in questo caso americano, ma che esiste, che esisteva in giro per il mondo, che dice, ma tutto sommato perché io devo avere un certo tipo di ruolo, perché devo mettere come Stati Uniti, devo essere un grande contributor di una serie di istituzioni, la dico male anche io, mi faccio gli affari miei e vado avanti per la mia strada occupandomi delle mie cose, se hai visto dal punto di stare le discussioni in Nato, Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera. Questo apre la porta a una sorta di, chiamiamolo, vuoto di potere o vuoto di coordinazione, che fa scaturire una serie di, non so come chiamarli, multilateralismi locali, molto frazionati, dove a fronte della mancanza di trazione da parte delle istituzioni che dicevi tu, cominciano a scaturire delle discussioni in circoli più stretti, dei bilateralismi discorsi a tre, che portano in questo momento delle difficoltà, delle opportunità e delle difficoltà alla grande cooperazione internazionale. Ecco, secondo me questo è molto interessante. Uno, vabbè, naturalmente quello che dice l'America, quasi l'America, gli Stati Uniti, diciamo venendo meno alla loro promessa di solidarietà, dà il loro disegno e dicono, sta roba qua ci costa troppo, no? Cioè, rispetto alla linea del Make America Great Again, noi siamo i contribuenti netti, diciamo più esposti su questo fronte, gli altri non stanno facendo tanto quanto facciamo noi, forse non stiamo guadagnando abbastanza da questa impostazione, benché l'abbiamo sempre guidata noi e quindi passi indietro. Però poi ci sono, e c'erano, ci sono, c'erano degli altri, no? Delle altre sacche di malcontento a livello globale, di cui si sta parlando moltissimo ora, che iniziano ad organizzarsi per i fatti loro. Tu appunto giustamente li definisci degli altri multilateralismi che si vanno a creare. Chi sono? Chi li guida? E nello specifico più di recente si è parlato tantissimo, no? Di questa sorta di riorganizzazione, ancora informale, mi sento di dire, dei BRICS. Certo, certo, sono due ottimi esempi. Allora, direi, in prima battuta c'è una grande, diciamo, presa di posizione della Cina, non solo più come potenza economica di export, ma come potenza, diciamo, politica e geopolitica con una serie di sfere di influenza. Credo che un buon esempio sia l'Africa, dove la Cina ha preso una posizione quando capita di parlare con clienti o con aziende, con istituzioni africane. Una delle prime cose che emergono, nella sua semplicità, è che l'Europa ha spesso parlato di Africa, la Cina nel bene e nel male è venuta a fatto le cose, adesso overbanalizzo. Quindi c'è una Cina che prende un certo tipo di trazione. Ci sono, come risposta a questa posizione, diciamo, a una nuova posizione americana un po' più disingaggiata, ci sono anche una serie di potenze locali che salgono un attimino prendendo certe posizioni. Pensiamo all'Arabia Saudita, alla Turchia, come guida di una serie di microcosmi. L'esempio dei BRICS è molto interessante, cioè l'allargamento dei BRICS di recente a 11 paesi, cioè arrivando a 11, quindi uscendo dai soliti Brasile, Russia, eccetera, eccetera, è un'interessante reazione di un gruppo, di un controsistema che dice, pur senza essere in conflitto con gli americani, perché la maggior parte dei paesi del BRICS non hanno nessun tipo di frizione con gli americani o con il mondo occidentale, però dice, voglio sedermi a un tavolo dove io ho più, ho una share of voice superiore, dove voglio anche io farmi un pochino gli affari miei, chiamiamola così. Rimango ancora sulla prima parte della tua risposta, che è quella che riguarda la Cina, perché secondo me in quel caso è interessante concentrarsi anche su azioni concrete che sono state messe in opera dalla Cina, come dicevi tu. Gli europei parlano per decenni di Africa, i cinesi sono messi a fare le strade in Africa, la grande riferimento, quando ero stato in Etiopia, era stata un po' quella. Quello che emerge è però appunto, al di là di un quadro di investimenti, un disegno molto chiaro, che loro chiamano Belt and Road Initiative, quindi un piano di investimenti per ricreare la nuova via della seta cinese che mette e che dà vita ad un nuovo ordine mondiale, un parziale nuovo ordine mondiale, ancora una volta con al centro attualmente degli investimenti, cioè chi mette fuori i soldi è chi riesce poi a garantirsi maggiore successo. Da questo punto di vista tu vedi, immagini, ipotizzi, risposte americane anche a questo tipo di strategia di investimento cinese, benché gli americani non è che abbiano mai smesso di continuare a delargire investimenti molto importanti in giro per il mondo. Credo di sì e credo che sarà l'America con i suoi alleati più stretti, non da sola, a diciamo affrontare, credo che tanti esempi ciò dimostrino, il loro confronto, chiamiamolo, ma non in un senso necessariamente di una frizione militare o che che sia, ma il loro confronto con la Cina, che ormai come stavamo dicendo appunto non è più solo un avversario, diciamo un competitor di tipo economico come è stata direi fino a 15 o 20 anni fa, è un competitor geopolitico, è un competitor che ha un certo tipo di posizionamento per esempio nell'area pacifica, dove alcuni alleati storici degli americani, le Australia e Taiwan di questo mondo si trovano davanti a questo. Quindi sicuramente l'America sta investendo tanto, prima di tutto internamente, per esempio per disingaggiarsi in parte dalla Cina. Cioè io credo che il chipset tra tanti, che affonda le radici nella volontà di essere strategicamente indipendenti in qualcosa, passi dal fatto che l'America si vede diciamo in maniera competitiva rispetto alla Cina a 360 gradi e quindi dice, insieme ai suoi alleati, dice ci sono una serie di cose in cui non mi posso permettere di dipendere dalla Cina. Faccio una mini digressione, perché è così importante non dipendere? Non è solo un tema economico, è un tema veramente di indipendenza strategica. Cioè al giorno d'oggi il confronto tra le potenze, fortunatamente, non è più solo di tipo brutalmente militare, ma è una cosa molto più ampia e molto più ibrida e passa da pressioni economiche, passa da appunto pressioni geopolitiche. Quindi c'è questa sorta di dicotomia che se vuoi va un pochino contro la logica naturale e ineffabile del mercato, che magari ti porta a dire se i chip li costruiscono meglio in Cina, fagli fare a loro, li comprerai. Questo è molto interessante e tra l'altro ulteriormente interessante l'immediata risposta. Cioè anche quando io studiavo sui miei libri di politica industriale ai tempi del dottorato, diceva protezionismo chiama protezionismo e quindi non appena si inizia ad introdurre una logica diciamo di chiusura in qualche modo rispetto alle logiche di un mercato libero e globalizzato, tanto più sei influente e tanto più tra l'altro gli altri risponderanno alla stessa maniera. L'euro ha appena apparito il chipset americano, è stato fatto quello europeo, quello americano, a suo modo era una risposta a delle scelte storicamente improntate in quella direzione cinese, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Vado adesso mentre ci avviciniamo alla chiusura però a guardare, a provare a portare l'occhio tanto del consulente quanto dell'azienda rispetto a tutto ciò, perché noi siamo abituati a guardare a questi grandi summit, vertici e organizzazioni come qualcosa che sta lì. C'è un bel pezzo di Rachman sull'FT, c'è una bella stretta di mano sul TG1 e poi che ne sa, non lo so, quasi non la percepisci come una cosa caricare sui te. Le aziende che sono di per sé, se vogliamo, storicamente degli operatori economici neutrali che ricercano l'efficienza. Come stanno reagendo dalla tua prospettiva a questa fase di, diciamo, policentrismo a livello globale? Si sta davvero iniziando ad impattare tutto ciò sulla vita di aziende europee, che sono quelle con cui sicuramente voi avrete di più a che fare? Allora, intanto hai perfettamente ragione. Queste grandi definizioni, questi grandi scritti che abbiamo fatto impattano la vita reale delle aziende quotidianamente e impattano anche per cose molto pratiche. Pensiamo semplicemente a quante aziende oggi stanno ridisegnando la loro supply chain, quindi la loro catena di fornitura, perché non si sentono più a proprio agio a essere completamente tirati a filo e distribuiti su tutto il mondo in una logica di efficienza pura. Quindi già, diciamo, la vita quotidiana delle aziende di tutto il mondo, non solo di quelle europee o di quelle occidentali, di tutto il mondo, ha già degli impatti pratici. Però se salgo un attimino di livello direi che si vedono due grandissime nuove tendenze in termini di sfide mentali a cui le aziende sottopongono. Una è la grande sfida della flessibilità e resilienza, cioè questo mondo che tu hai descritto così bene implica la necessità rispetto a prima per un'azienda di essere molto flessibile, perché è un mondo molto fluido. Cioè, la perdita di questo grande ordine, questo disegno che descrivevi all'inizio, che inesorabilmente va in una direzione, vuol dire anche che la tua realtà quotidiana cambia da un giorno all'altro. Se due paesi si mettono uno contro l'altro e mettono barriere doganali, tu magari come azienda ti trovi che un tuo cliente, un tuo fornitore non è più accessibile. Quindi grande flessibilità e grande resilienza, quindi capacità di reagire a delle perturbazioni. L'altra cosa, secondo me, forse ancora più interessante è che in questo mondo, dove il polo nord magnetico, se vuoi, sia un po' perso, le aziende si fanno delle domande molto profonde sulla loro bussola interiore. È una cosa che noi in BC ci chiamiamo purpose. Cioè, vanno a pensare e a dire, ma io nella vita, a parte produrre questo microfono, questo tavolo, più profondamente, io chi sono e che cosa faccio? Perché questo, nei momenti controversi, le porta, diciamo, gli dà un orizzonte per prendere decisioni. Che magari cominciano dalla dichiarazione dei CEO. I CEO di oggi, se li guardiamo, prendono molte più posizioni su molte più cose di quello che facevano vent'anni fa, dove prendevano esclusivamente posizioni economiche. Questo è incredibile. Noi ne parliamo tantissimo. Devo dire, non l'ho vista arrivare, questo tema qua, del brand activism, anche all'interno di questa discussione. Noi ne parliamo tanto perché effettivamente il CEO moderno è un CEO tanto più poi di aziende che operano su scala globale, è un CEO politico e geopolitico e quindi deve prendere una posizione sulla base di cosa la prende. Prima c'era un mondo molto chiaro e tracciato, oggi a un certo punto devi chiederti se, ok, allora, però se la carta dei miei valori è determinata alla persecuzione che so, dei diritti umani come obiettivo, beh, allora forse la fornitura dalla regione X della Cina, dove questi vengono meno, non la posso. E da lì poi tutto segue e in qualche modo diventa un nuovo quadro aziendale che fa la sua geopolitica, chiamiamola geoeconomia perlomeno. E mi chiedo, l'altra cosa che mi interessa molto approfondire con te è invece il vostro ruolo, perché siete, l'abbiamo capito, ma siete un animale particolare, voi di BCG e fate cose che non mi aspettavo che faceste. Tra queste c'è appunto questo tipo di consulenza. Mi racconti poi il lavoro che fate voi in chiave di che cos'è oggi un advisor nel mondo della geopolitica e della geoeconomia. Che tipo di domanda vi arriva dall'azienda media che assistite? Perché è un lavoro che non tutti conoscono probabilmente, tra l'altro. Faccio molto volentieri. Allora guarda, paradossalmente un primo ruolo importante è nella definizione della domanda. Cioè con tantissime delle nostre controparti, clienti, non clienti, istituzioni, cerchiamo di aiutarli a vedere arrivare la domanda. Quindi tante volte sono dei what if, no? Siamo pronti a. E in seconda battuta, una cosa che facciamo molto, sfruttando il fatto che abbiamo un network molto internazionale, è cercare di portare delle prospettive da fuori. Perché sempre in questo mondo fluido che descrivevi prima, una cosa molto complicata è prendere una posizione e guardarsi dentro. L'azienda media conosce benissimo se stessa e il suo mercato, i suoi competitor, il suo contesto conosce molto meno cose di cui non si è mai dovuto occupare, tipo la situazione politica, non so, nel Sab Sahel, perché fino a ieri non era sul tavolo di nessuno di loro, no? Quindi cerchiamo un attimino di portargli questa vista da fuori. E questo è analisi, rientra in campo, c'è un po' dell'analisi del rischio geopolitico, del rischio paese, o è qualcosa di più? È qualcosa di più, cioè parte da lì, ma poi fondamentalmente va a vedere quelle che chiamiamo sensitivity, quindi va a vedere le fluttuazioni di alcuni modelli sulla base di perturbazioni, no? Perché tu puoi avere un modello perfetto nel mondo di oggi, ma la domanda interessante è se, non lo so, la situazione tra gli Stati Uniti e l'America al punto di vista commerciale si incancrenisce e succedono una serie di barriere doganali. Il tuo modello così perfetto? Uno, sei in grado di cambiarlo, sì o no? O è scritto una pietra? Due, lo cambi in 25 anni o sei pronto in due mesi a virare? E tre, che tipo di effetto hai? Quanti soldi perdi? Per cominciare dalla cosa più banale, ma spesso anche quanto talento perdi, perché noi pensiamo sempre al flusso monetario, ma nelle aziende di oggi il flusso di talento è anche molto importante. Se un paese diventa off-limits, tu magari lì avevi outsourced, avevi decentrato tutta, non lo so, la tua parte IT o di data analytics, no? Quindi anche quello è molto, molto importante e insieme a loro cerchiamo di trovare delle soluzioni. Ok, quindi questo, diciamo, è un primo ambito su cui voi operate. Mi chiedo, in aggiunta in realtà altre sfaccettature del vostro lavoro, anche chi sia all'interno dell'azienda moderna è il vostro interlocutore. Cioè, quando vi mettete a parlare di questi temi, temi complessi, che solo parzialmente, diciamo, sono immediatamente ricollegati al business, chi è il vostro interlocutore? È l'ufficio del CEO? Chi dialoga? Chi è in grado di comprendere questi temi? Perché talvolta se io sono lì a fare bulloni, no, guarda, non leggo la pagina di esteri io sul giornale, quindi è inutile che vieni ad annoiarmi. Allora, direi, ti rispondo a due livelli. In prima battuta è l'executive committee, perché i CEO moderni sanno anche molto bene che decisioni estremamente centralizzate, la donna sola o l'uomo solo al comando, è un modello che con pochissime eccezioni non funziona più. Quindi in genere hai quella C-suite, si chiama in vari modi, ma diciamo il CEO e i suoi primi riporti più importanti, perlomeno. Quello è il gruppo da cui fa partire lo stimolo. Però, velocissimamente, quando poi lo stimolo si declina negli esempi che abbiamo detto, si ingaggiano poi le funzioni operative. E a mio modo di vedere, in maniera anche molto più profonda di quello che andiamo a pensare, perché alla fine se la sfida è grande a sufficienza per essere veramente interessante per l'executive group, anche la persona che fa i bulloni in linea è perfettamente in grado di capirla. E anche questa persona deve arrivare on board e deve comprarsi l'effort di trasformazione, perché comunque tipicamente poi concludi insieme che devi cambiare una serie di cose e il cambiamento viene sempre con uno sforzo. L'uomo è, in queste cose, intrinsecamente pigro, ama lo status quo e quindi è importante che le persone capiscano e comprino la necessità di cambiamento, che è molto più difficile se le aziende è molto performante. Cioè la maggior parte dei nostri clienti sono nel loro mercato bravissimi. E quindi non è facile convincere una persona che è sempre stata bravissima a dire per oggi devi cambiare, magari prima ancora che abbia qualsiasi effetto tangibile. Quindi dice, ma sta andando tutto benissimo, perché mi chiedete questa follia che mi costerà sangue e sudore? Quindi c'è questa dinamica secondo me molto bella, molto costruttiva, di coinvolgimento da sopra, ma che poi abbraccia praticamente tutti. Ti faccio un'ultima domanda mettendomi nei panni di un giovane me di tanti anni fa ormai. Questo mondo di cui tu sei così esperto, quindi il campo della geopolitica, il campo della geoeconomia, io se lo riguardo ai tempi in cui ero all'università, dicevo cavolo che roba divertente, interessante. Quanto altro poi, però se non vuoi finire, a meno che tu non voglia fare il diplomatico, no? È inutile che oppure, magari poi le istituzioni internazionali, però molto legate a quello, ecco, mi viene a dire molto public sector, no? Public sector più accademia, questo era un po' il mio pensiero. Oggi tu, secondo me, hai molto ben descritto il legame estremamente intimo che c'è fra queste dinamiche e quelle del business. Ora siamo vivendo questo momento storico, se dovessi guardare avanti, secondo te è, diciamo, sono ambiti su cui vale la pena investire umanamente a livello di studi qua, diciamo, provo a rubarti quasi un advice di carriera, oppure diciamo, meglio stare su economia aziendale che non si sbaglia mai. Guarda, con tutto rispetto per l'economia aziendale, ovviamente, credo siano necessariamente degli ottimi filoni per i nostri giovani per sviluppare delle competenze, perché per quello che abbiamo detto è difficile immaginare che si torni a un equilibrio molto stabile, ci saranno nuovi sotto equilibri di vario tipo. Quindi queste capacità sono importanti. Fra l'altro credo che una persona, io non ho fatto questo tipo di studi, sono ingegnere, anche io ho fatto una cosa molto più normale, però credo che questo tipo di studi, al di là di insegnarti delle cose specifiche per quel momento, che saranno sicuramente utili nella vita lavorativa dei giovani di oggi, fondamentalmente ti aprono dei modelli mentali per cui tu, affrontando temi geopolitici, devi per forza avere la capacità di astrarre molto, uscire molto largo, ma poi anche di tornare su questo pianeta con delle cose molto concrete. A mio modo di vedere questa capacità elastica di fare dei framing mentali, delle strutture mentali e poi di riportare la realtà è come leggere e scrivere, sono delle cose di base che ti riutilizzerai per tutto il resto della tua vita, qualunque lavoro facciano, credo. Trovo una risposta molto d'impatto, devo dire, non scontata per chi lavora appunto così tanto a stretto contatto con il business che a volte viene scambiato solo per pura concretezza nell'immediato e invece questa necessità secondo me di divisione in un mondo sempre più mutevole, perché in realtà che negli ultimi 20-30 anni la velocità e la complessità del cambiamento a livello globale hanno preso una spinta d'accelerazione tale da rendere la capacità di navigare nell'incertezza una componente essenziale per qualsiasi lavoro. Fabio, grazie mille per questa chiacchierata e per averci trascinato, fatto fare un bel tuffo nel megatrend di questo mese. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Ci risentiamo e rivediamo alla prossima puntata di Actually e o di Megatrend. Alla prossima, ciao. Ciao.